Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa trentesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di KDE. La community di KDE ha annunciato il rilascio della versione 19.08 delle KDE Applications. Si tratta del consulito aggiornamento che va a migliorare le applicazioni in base di KDE, aggiungere funzionalità, rimuovere bug, migliorare la stabilità e quant'altro. A questo giro le applicazioni che sono state particolarmente attenzionate sono state Dolphin, Console, Kate, Ocular, ma anche il Tool Spectacle, quello che serve per fare screenshot. Degne di nota che sono due nuove funzionalità che riguardano Kate, che ha la possibilità di fare i tagging delle schede, e Spectacle al quale è stata aggiunta una opzione, una funzionalità che quando noi andiamo a fare uno screenshot ritardato nel tempo, che adesso facciamo uno screenshot che deve partire dopo 5 secondi, ci viene mostrato sulla barra di KDE Plasma un'animazione che ci mostra quanto manca alla fine del timer e quindi alla funzionalità di screenshot, che è molto utile per chi come me fa molti screenshot. Le KDE Applications 19.08 sono già disponibili su KDE Neon, sulle altre distribuzioni vi toccherà aspettare i tempi necessari, ma è un tentore della distro per aggiornare il tutto. Se siete su Kubuntu dovrete passare per i consuliti repository aggiuntivi, mi riferisco alle Kubuntu e al GTS principalmente. Passiamo adesso a parlare sempre in tema KDE, ma questa volta per quanto riguarda delle distribuzioni, e parliamo del rilascio di Netrunner 19.08, nome in codice Indigo. Il team di Netrunner ha annunciato la disponibilità di questa nuova versione di Netrunner, questa versione è basata su Debian Buster, Debian 10, e offre un Debian con KDE, una selezione di software e un tema personalizzato. Essendo basato su Debian 10, offre una versione vecchia di KDE, KDE Plasma 5.14.5, KDE Framework 5.54, le applicazioni di KDE 18.08. Che senso ha utilizzare questa distribuzione? Non lo so, onestamente non so più che senso ha utilizzare questa distribuzione, perché se volete una distribuzione basata su Debian, vi installate Debian con KDE. Poi verrà personalizzata come volete con le applicazioni che volete utilizzare voi e con il tema che volete utilizzare voi. Fra l'altro anche questa novità del nuovo tema Indigo, se l'andate a vedere, non è poi così visivamente carino, perché hanno praticamente messo un tema per le finestre e per KDE Plasma, poi hanno cambiato anche il tema del puntatore del mouse, mettendone uno che è sinceramente orribile, è un tema con una freccia molto retro e un colore rosso che è un pugno nell'occhio, in cui onestamente non capisco che gusti di peep hanno gli sviluppatori di Netrunner, scusate l'Apsus. Ripeto per l'ennesima volta, vi consiglio di installarvi una Debian o vi consiglio di installarvi una Kubuntu LTS o una OpenSUSE nella versione stabile, se volete una versione stabile di KDE, ma non di certo questa versione di Netrunner. Passiamo adesso a parlare di Blender, nelle scorse settimane abbiamo parlato molto di Blender della vagonata, di soldi e di attenzioni da parte di software house varie che hanno deciso di sponsorizzare Blender economicamente con forza lavoro. Questa settimana torniamo a parlare di Blender perché? Perché Cara, la società di produzione anima e animazione che fa parte del project Studio Q, che sta attualmente lavorando anche al prossimo film di Evangelion, Evangelion 3.0 più 1.0, ha deciso che migrerà tutti quanti i suoi computer a Blender. Blender va utilizzato anche per alcune parti di Evangelion e quindi il prossimo film di Evangelion avrà anche un tocco di Blender. Questa decisione è stata presa anche per motivi economici, perché poi c'è tutto un articolo riguardo alla data della legge, perché comunque il costo di licenze proprietarie non è indifferente, però poi si è deciso anche, anche questo ha influenzato la scelta della decisione di passare a Blender. Oltre a questo, la Blender Foundation verrà codiuvata nel sviluppo di Blender da parte del team di Cara, che oltre ad adottarlo ha deciso anche di contribuire. Quindi, ottima decisione, ottime notizie per Blender, che si conferma sempre più un software molto versatile, perché viene utilizzato dall'utenza casalinga, viene utilizzato da chi sviluppa videogiochi, viene utilizzato da chi fa animazione digitale, viene utilizzato praticamente da tutti. Un ottimo software molto versatile che funziona in modo egregio. Passiamo adesso a ElementariOS. Questa settimana ho pubblicato una guida che si illustra come abilitare l'icone nella trai per le applicazioni di terze parti. Una delle grandi limitazioni di ElementariOS è appunto questa mancanza. Le applicazioni di terze parti, che ne so, Telegram, Dropbox, Skype, Nextcloud, Client, non mostrano nella trai di sistema l'icona relativa al programma. Questa è una scelta progettuale da parte del team di ElementariOS. La stessa cosa avviene anche su Gnome Shell, che di default non le mostra più. Mentre su Gnome Shell noi abbiamo la possibilità di ripristinare tramite una estensione di terze parti. Su ElementariOS la procedura è un pochino più lunga, ma nulla di trascendentare. Quindi possiamo farla in maniera molto rapida, seguendo quei due o tre comandi che vi posto su Marcosbox, che vi ho postato nella guida, e possiamo ripristinare il comportamento, quello classico, quindi con tutti quanti gli indicatori. La guida è testata, perché lo provano sulla mia pelle, per ripristinare il funzionamento degli indicatori di, nel mio caso, di Telegram e di Nextcloud. Io continuo a non capire la scelta di progettuale dei sviluppatori, di rimuovere tale funzionalità. Perché? Perché secondo me questi indicatori sono molto funzionali, perché vi mostrano le notifiche non lette, ma vi mostrano, che ne so, anche lo stato di avanzamento, la sincronizzazione e quant'altro, senza dover stare lì ad aprire il programma ogni volta. Oppure, nel caso di Telegram, a dover tenere per forza pinnato Telegram sulla doc di ElementariOS per avere l'indicazione della notifica non letta. Non credo ormai che in futuro questa funzionalità verrà ripristinata, perché come ben saprete il team di Elementari è un po' nazista per quanto riguarda i software di terze parti, non c'è nemmeno la possibilità out of the box di aggiungere i repository di terze parti per una scelta progettuale del team di Elementari che vuole soltanto applicazioni pensate per rispettare le indicazioni di Elementari, quindi per integrarsi meglio con il sistema. Applicazioni di terze, vengono scoraggiate, diciamo così. Passiamo adesso a Fedora. Nelle scorse settimane vi avevo parlato della proposta che era stata messa in discussione circa la rimozione dei repository modular and everything easy to see da Fedora31. La proposta adesso è passata, il Fedora Engineering Steering Committee, FESCO per gli amici, ha approvato questa proposta e quindi a partire dal rilascio di Fedora31, il cui rilascio, salvo imprevisti come traduzione Fedora, avverrà il prossimo 31 ottobre 2019. Questa decisione segue quella già presa qualche settimana fa relativa alla decisione di interrompere la complicazione del kernel easy 86. Se avete una versione 64 bit di Fedora comunque non dovete preoccuparmi per i programmi a 32 bit perché il supporto multi-gib continuerà. Quindi come nel mio caso potrò continuare ad utilizzare la mia affidata stampa dei brother che l'altro driver rilascia i driver della stampa soltanto a 32 bit, quei maledetti che non sono altro. Passiamo adesso all'ultima notizia della settimana che poi non è una notizia, nelle scorse puntate, nelle scorse settimane vi avevo annunciato questa nuova rubrica in mio setup, è stata pubblicata questa settimana il terzo episodio di questa rubrica dove voi i lettori potete condividere la vostra postazione informatica. In questa puntata ho avuto il piacere di ospitare Lorenzo che è uno sviluppatore web per un'azienda che si occupa dello sviluppo di un gestionario cloud per il mondo alberghiero, lo sviluppo, andatelo a vedere, Lorenzo utilizza quotidianamente un Dell XPS 13 del 2017 con Ubuntu 18.04, non è comunque la versione quella developer edition, quella che veniva fuori con Ubuntu ma è quella standard, e ci mostra la sua postazione di lavoro con i programmi che utilizza giornalmente. Se anche voi volete condividere la vostra postazione potete farlo inviandomi tutto alla mail che trovate su Marcosbox, oppure potete contattarmi tramite Facebook, oppure potete contattarmi tramite la community telegram di Marcosbox, quindi avete tanti modi per contattarmi, quindi condividete, 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 fatemi sapere, magari lasciate anche un commento sulle puntate che sono state appena pubblicate. Vi ricordo che il podcast di Marcosbox è disponibile tramite il click integrato su Marcosbox, ma lo trovate anche su Spotify, su Google Podcast, su Anchor, su TuneIn, su YouTube che viene riproposto, ma anche su Amazon Alexa, perché è disponibile una skill per Amazon Alexa che potete aggiungere al vostro sommario quotidiano e ascoltarvi l'ultima puntata del podcast di Marcosbox direttamente da Amazon Alexa, quindi sui vostri dispositivi eco e dispositivi eco compatibili. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci aggiorniamo, ci sentiamo, ci vediamo, ci ascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!